Musica Buonasera e ben ritrovati su TV6 con la WISPA Abruzzo Morise E benvenuti alla prima puntata di Dottor Sarbene Dottor Sarbene è una trasmissione pensata e ideata per il benessere dove si dà del tu alla medicina La produzione di questa trasmissione è della WISPA Abruzzo Morise, ente di promozione sportiva Che ha tra le sue mission anche la tutela, il promuovere e il favorire la cura della persona Il benessere psicofisico della persona nella sua interezza Insieme a me qui in studio c'è e ci sarà per tutto il corso delle puntate di questa trasmissione Il Dottor Alessandro Labarba Buonasera, buonasera a tutti quanti voi Ben arrivato Alessandro, Dottore farmacista che non solo mi affiancherà nella conduzione di questa trasmissione Avendo lui una formazione trasversale rispetto a tutte le specialità che avranno poi gli ospiti Che saranno in collegamento con noi Ma che curerà anche una piccola rubrica davvero molto interessante Vengo subito a presentarvi l'ospite di questa nostra prima puntata e che fa gli onori di casa Ed è il Dottor Paolo Noccioli, chirurgo-senologo presso l'ospedale Bernabeu di Ortona Ben arrivato Dottore Buonasera, grazie Buonasera dell'invito Sentiamo leggermente basso, se può alzare un pochino la voce Sì, come no, certo, dicevo buonasera e grazie dell'invito Grazie a te per avere partecipato, lo abbiamo già detto, lo ribadisco Questa è una trasmissione dove appunto vogliamo dare del tu alla medicina Ma diamo del tu alla medicina parlando con dei professionisti di calibro, di spessore Il tema di oggi è quello del tumore al seno Io comincerei subito entrando nel vivo di questa nostra chiacchierata, di questo nostro dialogo Dottore, volevo chiederti innanzitutto E farti una domanda che un po' diciamo ci poniamo tutti Come si è modificato, se si è modificato il quadro evolutivo del tumore al seno In relazione al fattore dell'età, al fattore del genere E anche in relazione a fattori sociali, climatico e ambientali Sì, io mi rifaccio un po' a quello che disse il professor Umberto Veronesi tanto tempo fa Dicendo che non è che il tumore marmario non esistesse negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40 Forse non si scopriva così precocemente come si scopre adesso Quindi in realtà è vero che c'è un aumento dell'incidenza di insorgenza del tumore mammario Ma è anche vero che la tecnologia e i passi avanti che ha fatto la medicina nella fase preventiva e diagnostica Ha consentito sicuramente una scoperta sicuramente più precoce Quindi se ci rifacciamo a tanto tempo fa, quando non esisteva neanche il programma di screening a livello nazionale Cioè le donne non venivano chiamate, invitate a fare prevenzione E quindi si aspettava semplicemente che la paziente si presentasse in ospedale su a sponte Perché aveva un segno clinico evidente Adesso per fortuna abbiamo dei mezzi diagnostici e quindi preventivi Che ci possono consentire una scoperta precoce, precocissima del tumore mammario Questo significa che nel tempo sicuramente è cambiata anche l'incidenza di insorgenza Perché sono cambiati i stili di vita, però ha cambiato anche il metodo di individuazione In questo tipo di tumore, quindi ben venga il processo di evoluzione Senti, ma in relazione per esempio all'età, se non mi sbaglio leggevo Che si è abbassata notevolmente la fascia d'età in cui sarebbe opportuno e necessario Fare non solo prevenzione, ma cominciare a fare già i primi screening Cioè prima questo era un tumore che in un qualche modo riguardava la donna matura Ora sembra che ci sia anche una fase pre-maturità in cui può insorgere Assolutamente sì Cioè nel senso io do dei dati nudi e crudi Il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne è dai 0 ai 49 anni del 40% Dai 50 ai 69 del 35% e più di 70 anni il 22% Quindi che significa? Che c'è una possibilità di ammalare il tumore mammario fino ai 49 anni del 2,3% Cioè una donna su 43% Così detto sembrerebbe poco, ma in realtà è vero il fatto che nelle donne pre-menopausa C'è adesso una maggiore insorgenza di tumore mammario Questo è dovuto a più fattori Quindi sicuramente è plurifattoriale l'insorgenza E bisogna andare a scandagliare un po' negli stili di vita E anche aiutato anche da una maggiore e precoce diagnosi Allora abbiamo parlato tantissimo di prevenzione Infatti abbiamo appena ascoltato questi dati E diciamo che la prevenzione in realtà è un'anticipazione in termini temporali Di una particolare attenzione a sé Quindi sotto il profilo poi di quelle che sono le ricerche, gli screening, le diagnosi varie eccetera Però questo è un anno particolare dove noi abbiamo avuto e stiamo ancora vivendo Un cosiddetto tempo sospeso Allora parliamo di prevenzione Mi sovviene il pensiero ma anche il dubbio Quanto è stato possibile in questo anno di tempo sospeso Fare la lotta contro il tempo e quindi fare prevenzione E come anche voi medici avete gestito o potuto gestire Quella che era proprio la tempistica Perché ovviamente con il covid bisognava prendere degli appuntamenti Probabilmente non c'era neanche tanto tempo o tanto spazio presso le strutture ospedaliere Insomma questa prevenzione quest'anno si è fatta E se si è fatta come si è fatta? Allora io posso parlare della nostra realtà Sicuramente c'è stato un rallentamento Nella fase del lockdown Sono state sospese alcune attività Momentaneamente per fortuna per breve tempo Purtroppo io quello che dico sempre è che il tumore non viene fermato dal covid Non mi interessa che ci sia virus, più virus, meno virus Il tumore va avanti Noi per fortuna nella nostra realtà a Ottona Nel nostro centro di riferimento regionale Per fortuna abbiamo assicurato comunque una linea diciamo di preferenziale Perché abbiamo un contatto diretto con i pazienti Sia telefonico, tramite fax, tramite email Comunque varie forme di forme mediatiche Per cui alla fine riusciamo bene o male a far fronte alle varie richieste Sicuramente un rallentamento dovuto alla chiusura del centro di prenotazioni uniche Devuta alla chiusura comunque al rallentamento delle visite Delle prestazioni ambulatoriali Degli interventi chirurgici Dovuti a comunque delle motivazioni prettamente tecniche Di sanificazione, di controllo del personale medico, paramedico, infermeristico Erano dovute Quindi alla fine si è fatto quel che si è potuto Temo purtroppo che E ho avuto conferma negli ultimi tempi Negli ultimi settimane Che non parlo tanto della prevenzione Quindi del fatto del tumore piccolo di 3, 4, 5 mm Ma delle situazioni cliniche Locale a luogo regionalmente avanzate Abbiamo avuto un rallentamento nella loro evoluzione di diagnostica E quindi anche fase terapeutica Sicuramente sono stati dei casi in cui poi si sono presentate donne giovani Che hanno rilevato la presenza di alterazioni cellulari E quindi di formazioni nodulari sospette Speriamo di poter far fronte nel miglior modo possibile E di cercare di evitare rallentamenti di questo genere Cercheremo di fare noi dal nostro piccolo Nella nostra realtà Di fare quello che è possibile Certo Senti Alessandro Io so che tu hai una domanda Diciamo profonda Complicata Arzigocolata Per il nostro amico dottore Che faglia la tua Dottore io volevo chiederle Laddove la chemioterapia e la radioterapia Non dovessero andare a buon fine E si dovesse ricorrere a una mastectomia Quindi a un'eliminazione parziale o totale Del seno Si può sempre ricorrere alla mastoplastica additiva E se nel caso in cui ci si dovesse ricorrere Si aumentano i rischi di recidiva o no? Allora la risposta come sempre in medicina Non è sì o no bianco o nero Diciamo che è nì Nel senso che la radioterapia comunque è post-operatoria Non è mai pre-operatoria Quindi parliamo di chemioterapia La mastectomia può essere effettuata Quasi sempre Trane dei casi in cui c'è un'inoperabilità iniziale Quindi si ricorre a una chemioterapia Se la chemioterapia non dovesse fare il suo esito Si può ricorrere a una cosiddetta mastectomia di salvataggio Facendo dei lembi dorsali o lembi di trama addominali E i rischi di recidiva per quanto riguarda una mastectomia In realtà dipende dalla situazione di partenza Nel senso che se è una situazione in cui la chemioterapia O la monoterapia neagriuvante ha fatto un buon lavoro Sicuramente è difficile che ci possa essere una ripresa della patologia Da un punto di vista poco regionale Se invece partiamo con un presupposto che la mastectomia Con un'eventuale mastoplastica Debba essere semplicemente una situazione di ultima spiaggia Di salvataggio E lì sicuramente le percentuali di recidiva aumentano Quindi bisogna vedere caso per caso E per quale motivo non abbia risposto E se eventualmente è il caso di cambiare strategia Da un punto di vista di terapia medica Perché comunque le armi a disposizione Non sono una, non sono due, non sono tante E fare sempre e continuamente una ristadiazione della situazione E vedere volta per volta cosa sia meglio fare La mastectomia sicuramente non è una scelta terapeutica di prima chitto Si tende sempre comunque a una terapia conservativa Quando ovviamente oncologicamente si può rispettare questo criterio Se però non ci sono più le prerogative per poter salvare una mammella Allora la mastectomia è privilegiata rispetto a una quadrantectomia Che in realtà può dare una risoluzione Da un punto di vista funzionale e anche estetico Comunque insoddisfacente La mastoclastica additiva viene fatta O meglio non è tanto una mastoclastica additiva Quanto una ricostruzione della mammella Perché la mastoclastica additiva è solitamente controlaterale Quando c'è bisogno di una simmetrizzazione La mastoclastica ricostruttiva è ormai d'obbligo in qualsiasi caso Perché comunque è diventata una necessità Non solo oncologica ma anche del fenotipo femminile Perché la donna necessita necessariamente di questo tipo di approccio Da un punto di vista chirurgico Non si può prescindere dall'oncologia Se non da un punto di vista anche estetico funzionale Quindi non c'è correlazione tra la ricostruzione del seno Come le parlava E un aumento di percentuale di possibilità di recidiva No, assolutamente no La ricostruzione del seno viene fatta Proprio perché viene comunque smantellata la mammella E una volta che comunque c'è uno smantellamento della mammella Ci sono i criteri di margini liberi Perché poi ricordiamoci che c'è sempre un esame istologico definitivo Oltre che estemporaneo che ci deve garantire un margine dei lembi tranquillo Quindi deve essere almeno di un centimetro Per cui non si abbia una percentuale più bassa di un'eventuale recidiva Poi ripeto, bisogna vedere sempre da che cosa si parte Perché se si parte da una mastite carcinomatosa Si parte da una linfangite carcinomatosa Dove una chemioterapia non ha fatto effetto È ovvio che lì già sappiamo È una morte preannunciata da un punto di vista tecnico Inutile che ne stiamo a parlare Però è ovvio che la mastectomia viene scelta Nel momento in cui ci sono le condizioni per poterle effettuare Per garantire alla paziente una migliore risoluzione Non solo quad vitamma ma anche quad valitudine Quindi come prognosi Bene dottore, allora invece io volevo chiederti una cosa A proposito delle cure Le cure tradizionali che conosciamo Insomma che sentiamo dire per questo tipo di tumore Sono la radioterapia, la chemioterapia Non saranno solo queste Però ultimamente si sente parlare tantissimo Di anticorpi monoclonali Ne parlano come possibilità di approfondimento dello studio per il covid Però è anche vero che questo tipo di anticorpi Sono stati utilizzati per alcune forme di tumore Immagino non per il tumore al seno Però per alcune forme di tumore Ora, secondo lei Poiché le ricerche e gli approfondimenti continuano Questo tipo di anticorpi potrebbero essere utilizzati O c'è una minima possibilità che possano concorrere ad aiutare O a porsi all'atere rispetto ad altre forme di cure Che sono molto pesanti come cure L'immunoterapia già esiste per il tumore mammario Non è una scoperta Esiste la chemioterapia Esiste la radioterapia Ma esiste anche l'immunoterapia Attenzione, nel momento in cui noi facciamo una diagnosi Di una neoplasia mammaria Abbiamo una carta d'identità La carta d'identità ci dice se il tumore è ormonoresponsivo Oppure no Oppure ha un antigene espresso Che è l'herb 2 Cosiddetto E che appunto serve per un'immunoterapia Quindi l'immunoterapia già esiste per il tumore mammario Ed è molto molto efficace Soprattutto nei tumori cosiddetti triplonegativi Dove non c'è un'espressione estrogenica Non c'è un'espressione progestinica Ma c'è un'espressione dell'herb 2 Allora, lì non sono triplonegativi Ma sono herb 2 overexpressing E allora si può utilizzare l'immunoterapia Quindi nel triplonegativi su sarà una chemioterapia Nel herb 2 espressi su sarà un'immunoterapia Nel recettore ormonale espressi un'ormunoterapia Quindi c'è un buon arco di armi a disposizione Per cui si possa utilizzare Perché no? Assolutamente sì Dottore, ma l'immunoterapia come giustamente stavi dicendo Già si usa e dà dei buoni risultati Ma qual è il momento in cui si riesce a utilizzarlo? Cioè, mi spiego meglio Ci piacerebbe poter sapere O ci piacerebbe poter scoprire Se c'è una forma di prevenzione Non solo nella scoperta dell'esistenza del tumore Ma addirittura nella contrazione dello stesso tumore Allora, contrazione del tumore Momentaneamente lo si può sapere Da un punto di vista genetico Cioè, fare una mappatura genetica Per sapere se si è BRCA1 o BRCA2 mutati Sicuramente sì Sapere se c'è una predisposizione Quindi ereditaria Assolutamente sì Sapere se si è BRCA2 o monoresponsivi O triplonegativi In questo momento no Bene Allora, Alessandro Dottore, noi ora presentiamo e guarderemo Quella che è la rubrica Di cui si occupa il nostro dottor Labarba Rubrica che si chiama la Wix Fake E di cui, prima di lanciarla Dici con una sola battuta In che cosa consiste? Notizie false Notizie false del mondo della salute Andremo a analizzare quelle che sono Le famose bufale Che si trovano su articoli Giornali, social Che deviano quello che è poi L'attenzione dalle notizie importanti Del mondo della salute Un breve scendo di storia Quando si pensa alle fake news Si pensa sempre ai social Una cosa moderna Una cosa nuova In realtà le fake news Sul mondo della salute Esistono da sempre Lo stesso Filippo IV Re di Spagna Riportato da Manzoni Diete colpa Della peste A dei personaggi Che spargevano Degli unguenti Infettanti Su Milano Da lì il famoso termine Untori Per tramandare la peste Cosa sappiamo Assolutamente Non vera Quindi diciamo che Appartiene un po' Alla storia dell'umanità Le prenderemo in considerazione Da un punto di vista Scientifico E cercheremo di smontarle Va bene Allora io Dico semplicemente Guardiamo la tua rubrica Per la prima puntata Ho pensato di parlare Di un mondo a me caro Che è quello Delle medicine Nello specifico Una categoria Che si chiama FANS Che è una categoria Molto vasta Che sono i farmaci Antinfiammatori Non steroidei Soprattutto nella prima Ondata di Covid Si pensava che Assumere questi tipi Di sostanze Peggiorasse La sintomatologia Del Covid Laddove ci fosse O addirittura Predisponeva I pazienti Ad ammalarsi Di questa malattia Questa è una cosa Assolutamente Assolutamente Non vera Ha portato A sospensione Di terapie Croniche Come ad esempio Il trattamento Di clofenac Per le parerologie Osteoarticolari O anche il semplice Mal di testa Non veniva curato più Perché si aveva paura Insomma Di andare a prendere Questi tipi di sostanze Ed è stata Una grossa problematica Che abbiamo riscontrato In farmacia Come associazione Di categoria Per diverso Diverso tempo Smentiamola Una volta del tutto I fans Non hanno Nessun tipo Di correlazione Con la malattia Del Covid L'unica cosa Da cui dobbiamo Prestare attenzione È che potrebbero Questo è l'ultimo Piccolo dettaglio E precisazione Che voglio fare Mascherare I primi sintomi Del Covid Niente più Insomma Quindi possiamo Continuare Ricominciare A prendere Il placebo O comunque Quello che ci occorre Per il mal di testa Insomma Dottor Noccioli Convieni Con questa Notizia Assolutamente Sì C'è stato Un primo momento In cui Praticamente Non si prendeva Più niente Niente di niente C'era una sorta Di Non lo so Di caccia alle streghe Nei confronto Di questi farmaci Più che altro Un appiattimento Perché Purtroppo Quando non si conosce Un qualcosa Si tende Semplicemente A impaurirsi E la paura Porta a questo A Completamente A cristallizzarsi E non sapere Cosa fare Quindi A buttare Cene su tutto E invece Non è così Ovvio che poi Col tempo Si vengono A scoprire E a smascherare Tutte quelle cose Che non sono vere Ma è meglio Così Insomma Va bene Allora Io Saluto il Dottor Noccioli Grazie per essere Intervenuto Arrivederci Dottor Noccioli Arrivederci Hanno seguito Da casa E vi do appuntamento Alla prossima settimana Sempre su TV6 A Dottor Starbene Grazie a tutti